Oh yeah! Ragazzi, sappiamo che questo video non ha molta qualità perché è stato registrato col cellulare, siamo consapevoli, ma ragazzi abbiamo sculato come non mai. Abbiamo fatto 27 vittorie in Weekend League, quindi oro 1 e ci tengo a precisare che soprattutto Leo ha fatto dei risultati, ha fatto tipo 15 quitt in 20 partite, una cosa del genere. Quindi ha giocato proprio alla grande, io l'ho aiutato, ho fatto una media da oro 2 io, con tranquillità, ma lui veramente ha dato quel tocco in più al risultato e ragazzi non ce l'aspettavamo, ma è uscita fuori una sculata assurda. Ecco a voi il video. Eccoli qui i due facchetti. Si apre subito il primo. E' bored. In forma. Oddio! Oddio! Non ci credo! 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 No! No! E questo ce lo teniamo pure! Guarda come tabba! Guarda come tabba! Guardalo! Assurdo! No vabbè! No vabbè! Che culo! Che culo! Goto! 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 Anche Rashford! Che se ne frega! Arte doppione! Oddio! Oddio quanto goto! Che cazzo vale un milione! Vale un milione tifo! No un pochino meno! Avevo visto 700k adesso sarà calato sicuramente! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Qui ci può essere che cazzo di fare! Non mi interessa! Non mi interessa! Ancora Borde! Non mi interessa! Spagna! A T T! Chelsea! Morata! Va benissimo! Morata! Muori Morata! Che culo! E' il papu! Ma ma che... Ma ma... E' il papu! Perisic! Con doppia! Ma che io ho doppione! Ma cos'è? E' capodanno! E' capodanno! Chek! Chek!